Una nuova voragine si apre nei conti già disastrati della sanità pugliese. 18 milioni di euro è la cifra che nel giro di sei mesi è stata letteralmente bruciata in interessi passivi maturati per il ritardo nei pagamenti dei fornitori delle ASL. Lo strumento per evitare tutto ciò c'era. Una delibera della Giunta, la numero 2408, datata novembre 2011, consentiva una transazione immediata tra ASL e fornitori. L'atto, approvato dall'esecutivo per tentare di limare il maxidebito da un miliardo e mezzo, aveva messo a disposizione 600 milioni di euro. La proposta era quella di liquidare a stretto giro i conti più vecchi, a patto che le imprese fornitrici rinunciassero ai contenziosi, alle spese legali e al 2,5% dell'ammontare delle fatture. Unica clausola, spendere tutto e farlo subito, entro il 22 maggio 2012. Ed è qui il vero scandalo. Nei sei mesi l'operazione è stata un totale fallimento. Dei 600 milioni a disposizione, solo 200 sono stati impegnati e liberati. Le fatture sono rimaste nei cassetti, 400 milioni a disposizione anche, con la diretta conseguenza di produrre 18 milioni di euro in interessi passivi. Eppure il vantaggio che si poteva trarre era considerevole. Tra spese legali e sconto sulle fatture, si parla di risparmi di milioni di euro, che avrebbero da un lato permesso alle ASL di rigirare quei soldi per dare servizi ai cittadini e dall'altro evitare il fallimento dei fornitori. La performance peggiore è stata registrata anche nell'ASL di Lecce. In cassa sono rimaste il 70% delle fatture. Il motivo? In curia, poca voglia di scartabellare con i documenti, difficile saperlo. Fatto sta che i soldi sono rimasti lì dove erano. E tra l'altro non si è nemmeno rispettato il precedente obbligo, imposto dall'Aggiunta un anno e mezzo prima della predisposizione dei 600 milioni, ovvero quello di censire tutte le fatture. Questo avrebbe preparato il terreno per sbrigare velocemente le procedure nella fase liquidatoria. Fa spallucce il direttore generale dell'ASL di Lecce, Valdomellone, che di debiti ne ha per 190 milioni. Effettivamente non ci fa onore, dice a denti stretti, dobbiamo vergognarci. Ora, per tentare di salvare il salvabile e non peggiorare la situazione, facendo lievitare ancora di più gli interessi passivi, la Regione sta mettendo a punto una nuova delibera con la quale si rinnoverà la transazione per altri due mesi, vale a dire fino all'estate, aggiungendo altri 300 milioni di euro al fondo, nella speranza che almeno questa volta vengano spesi. Grazie a tutti.